A me dispiace, non c'è più l'altra. A me no, ci dava troppi compiti. Non ci sono più i banchi. Come facciamo a fare lezioni? Che bello, si può giocare a pallone. Oppure si può ballare. Signora maestra. Oh, salve bambini, venite avanti. Accomodatevi ragazzi, accomodatevi. Maestra, come facciamo a fare lezioni senza banchi? Eh, anch'io sono dispiaciuta. Quando sono arrivata ho trovato tutto così. Però ho pensato di fare una nuova attività. La maglia. Bambini, fate un cuore da costa 2 a 2. Andate avanti gli scendenti. Dopo, proseguite appunto il grande diviso. Fino all'altezza degli scatti manca. Guarda che devi fare così. Vedo che hai capito, Cleia. Molto brava. Mattia, che cos'è sta schifezza? E' tutta la lezione che ho fatto io. Sei veloce Alice, non pensavo fossi così veloce. Maestra, ma è una roba da femminuccia. Non è da femminuccia. Se continuerai a dire che è da femminuccia, ti rifilerò una notta. Chi o me? Signorina Alice. Ma vedo che non hai capito. A me non piace sto lavoro. Te lo dovrai far bastare fino alla fine dell'anno. No. Ma, maestra, perché non ritorniamo a fare lezione normale? Lo vorrei, ma non ci sono i banchi. Io che pensavo che si potesse giocare a pallone tutto il giorno senza banchi. Sono stanca di fare la maglia. Se ci fossero i nostri banchi. Chissà dove saranno finiti i banchi. Forse voi sapete qualcosa dove sono finiti i banchi. No, io non c'entro. Perché l'altra volta hai fatto un commento perché non c'erano i banchi. Dove eri ieri sera? Era con lui. Dove eri? Tu dove eri ieri sera? Era con lui. Non fate i furbi. Ditemi dove eravate ieri sera. Eravamo a rubare le biciclette. Dai, che i maglioni fanno soli, eh? Fui, fui. Cosa c'è Alice? Ho un sospetto sul bidello. In classe? Come va bene, ecco qua, ecco qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate quanti scatoloni. Chissà cosa ci sarà lì dentro. Guardiamo. I nostri maglioni. E c'è anche un foglio. Ho capito tutto. Ah, non si stanno lavorando. Solo questa è quella che gli è riuscita meglio. Fermi! Fermi! Non l'ho scoperto! No, bambini, non ci ha invece scoperto. E su che cosa ci ha invece scoperto poi? Siete stati voi a rubarci i banchi per farci lavorare gratis? Sì, come? Abbiamo pure qua la bolla. Ce l'hanno scoperti? Fermi! Non è pure una maestra! È il proprio interno dell'Europark! Non è vero, ragazzi! Io sono una maestra! Io sono una maestra! E tu non sei un fidello! Ma sei un coniglio! Sono proprio noi io da queste cose! Yeah!